Buonasera, saluto l'amico professore Francesco Dobressi che come al solito con le sue tecniche ormai avanzatissime della diffusione sulla rete, ovviamente su internet, riesce a mandare le immagini, a divulgarle nel senso istruttivo, soprattutto per difondere le notizie che vanno in tutto il mondo. Stasera siamo in Piatta Municipio e vicino a noi alla mia sinistra c'è il mitico Vincenzo Belcalo, detto U Pacifico, mitico perché è un grande lavoratore, ma anche un tutore, un appassionato e direi uno specialista della musica tradizionale calabrese, folcloristica. Ho saputo che tu hai inciso anche qualche cd, nel senso artigianale, però è venuto bene. Ora ci recita una brevissima canzone e ce la recita. Vai! Non era ancora 17 anni e mamma mi diceva di farmi il tito, ma dopo che mandai due o tre bandi non mi vuote per il mio marito. Contrai per strada una figliola d'ora e presto li trovai che non ci dico. Vincite il bellaccio di un tesoro, faccite la madonna e le mararite. Se vuoi la bravissima di nuovo, tenete in bocca a noi e ci sorrisi. Ora vorremmo saccio e come vi chiamate, dicitemi il nome e chi indavite, che se per torta uno e me lo lati, mortucca in terra mia e mi vedite. Mi chiamo Teresa che volete, volete la vostra mano e mi mirate, presto con voi monti facciamo il sito. Ora ricitemi di chi paese siti, mi ritrovi sulle strade e ora mi imparo bella la casa e chi sta siti. Ora parlo io con il vostro padre, ma io si accontente a questi partiti. Avevo detto che io faccio queste strade e ora speriamo che ora sarà finito. Bravo, bravo. Questa è stata composta da te. Sì, sì. Bene, allora abbiamo ascoltato questa tua canzone del Polcore Calabrese. Quanto impieghi solitamente per comporre una cosa del genere? Cioè ti piace molto? Sì, 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 mi piace. Ma io non è che io... quando mi prendo ci metto un... E la tua passione? Sì, sì, sì. La scrivi, la scrivi. La scrivi, la scrivi. Facialmente sul trattore, quindi scrivi anche sul trattore, scrivi i testi che sono tuoi. Cioè mentre lavora? Mentre lavora, mentre lavora lui pensa, immagina e costruisce queste cose. Prima le pensa, poi le faccia, poi attira. Immagazzina il suo cervello e comunque... Bene. Complimenti. 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 Andremo in rete prossimamente su tutta la rete del web. Sì, 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 ne facciamo. Ne facciamo, ne facciamo. Belcastro. Vicente Zecco. U Pacifico.